mannaggia piove però volevo farvi vedere una novità su una pianta che l'hanno già visto in passato è stata l'oggetto di lavorazione di un video di halloween e ci sono ottime novità ve le voglio mostrare sono contento particolarmente contento volevo condividere con voi questa gioia vi chiedo una cosa se già non avete fatto iscrivetevi al canale mettete un like al video che è importantissimo per me e perché l'idea di andare avanti a fare tanti video ma chiaramente devo devo avere devo sentire la vostra vicinanza loro interesse dai ragazzi ancora grazie vi lascio il video ma eccolo il nostro eroe ce ce la sta facendo dai allora è la pianta che avevo fatto per halloween il mio kishu che avevo potato del tutto avevo ricevuto tanti commenti chi contento chi dispiaciuto e tutto quanto e vedete come è ripartito guardate il colore la pianta sta ripartendo allora siamo sulla via giusta avevo fatto una serie di trattamenti e stanno andando a buon fine poi prima di dire cosa ho fatto di preciso voglio essere certo che la pianta riprenda però ha ripreso uniformemente vedete ecco solamente sto ramo qua non ha ripreso questo è un pochino più delicato vediamo però le punte dove hanno lasciato le punte guardate guardate che colore guardate che sparate una spanna di sparate direi che vanno benone allora questo la pianta che avevamo già visto che purtroppo la sfortuna ha fatto sì che qualcosa non andasse verso giusto ed è stata demolita adesso queste sparate qua acquisirà la forza dove io posso andare piegare questi rami riportarli e costruirle ricostruirla completamente avevo fatto anche un progetto ricordiamoci non so se userò la parte alta o meno perché tagliarla mi dispiace ma mi piacerebbe abbassarla di molto sta pianta e fare solo la parte secca il video rende poco sulla bellezza di questa parte secca vedete che sto ecco quando la sto trattando per farla invecchiare ulteriormente poi con l'idro pulitrice la tiriamo via tutta bene non vado a sabbiare idro pulitrice per tirare via lo sporco in eccesso e dopo consolidante ok e la vegetazione da la sarà talmente forte che potrò ripiegarla riportarla qua sotto fare una pianta un po più bassina ok un po più adeguata per una persona della mia età ok per trasportarle anni fa portavo piante pesanti adesso cerco di portare piante un po più maneggevoli ecco ci tenevo a condividere con voi il successo di questa terapia di questo trattamento su questa pianta e più che altro anche mostrare perché qualcuno ha detto sei matto quando tagli così tanto la pianta muore e invece no anzi al contrario sta riprendendo bene alla prossima spero con altre news ancora più positive di queste su questa pianta grazie a tutti